gli infissi in pvc sono sicuri? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973. ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi per rispondere a questa domanda dobbiamo distinguere due tipi di sicurezza una la sicurezza che non siano nocivi e su questo ci sono ricerche che dicono che è assolutamente sicuro e ricerche che dicono che è assolutamente dannoso la verità dove sta solitamente sta nel mezzo così dicono però non essendo un fisico non posso risponderti il consiglio che ti do è che se è una cosa la sicurezza e alla salute delle persone che ti sta particolarmente a cuore forse esistono altri materiali con meno dubbi se invece parliamo di sicurezza alle frazione in quel caso anche gli infissi in pvc permettono di raggiungere gradi di sicurezza c'è molto elevati posso trovare infissi in pvc classe 1 classe 2 e classe 3 di resistenza alle frazione infissi in pvc avrà una ferramenta adeguata a questo tipo di sicurezza e anche un vetro adeguato e l'importante è non accedere con le dimensioni soprattutto negli infissi blindati perché avendo già un vetro molto pesante e il profilo più debole di suo rispetto ad altri materiali fare magari aperture non troppo alte ante intere non troppo grandi in modo che ti permette di avere un infisso duraturo nel tempo senza continua regolazione ecco per farsi consigliare in quale la dimensione giusta qual è il tipo di sicurezza giusta il tipo di infisso in pvc giusto occorrebbe un consulente molto preparato che purtroppo dall'altra parte è sempre quello che ti deve vendere finestre quindi c'è un evidente conflitto di interessi ti consiglierà più facilmente quello che fa comodo lui e proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza con sistema bisacchi dove possiamo aiutare tutti quei clienti solo in quei casi dove non vendiamo direttamente le finestre magari se abiti lontano da bisacchi quindi non ti possiamo servire a quel punto ti posso dare dei consigli veramente disinteressati su quale soluzioni è meglio adottare nel tuo caso specifico se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata dove ti aiuterò appunto nella scelta ciao e ai prossimi video grazie a tutti Grazie per la visione!